Ciao a tutti, sono usciti due video per quanto riguarda i nostri coniugi da Limberti, e cioè lo scaratore dell'Everest e la leggenda. Uno è uscito sul canale di Coppia e si intitola Ho fatto una cavolata, e l'altro sul canale di Chiara e si intitola Ho comprato tutta la nuova collezione make-up di Chiara Ferragni. Allora, cominciamo a vedere il video della cavolata, perché insomma mi piacerebbe sapere di quale cavolata si tratta stavolta. Comunque, in quadratura loro sono fuori praticamente da qualche parte, ci dicono che sono a RAW e sono andati per cambiare il caricabatterie degli joystick perché non funzionano più. E quindi lei ha telefonato appunto, siccome erano ancora in garanzia, ha telefonato e gli hanno detto che potevano andare a cambiarli lì a RAW. Sono andati e entrano in un supermercato che secondo Davide è una ciofecata, e lui insomma, visto che sta sempre dentro ai supermercati, diciamo che se ne intende abbastanza. Comunque entrano e cominciano a inquadrare, diciamo, diversi negozi, tra cui un negozio che dovrebbe essere, insomma, quello dei cinesi, sapete un megastore di questi dei cinesi, insomma. E che Chiara dice subito che vuole andare a vedere, insomma, che vuole andare a farci una camminata. Fa vedere lei, Chiara, che porta le scarpe della Ferragni, anche se nessuno gliel'ha chiesto, comunque grazie. Poi cambia inquadratura, sono usciti da questo negozio e dicono che, insomma, gli hanno cambiato questi joystick. Lui non gli è piaciuto, a Davide non è piaciuto questo supermercato e Chiara non è rimasta soddisfatta del negozio di cineserie. Insomma, hanno trovato il posto abbastanza brutto, però loro sono andati lì soltanto per il caricabatterie, che tra l'altro, a quanto dice Davide, costa anche costicchia, insomma. Però Chiara lo sbugiarda subito, insomma, la corregge subito, dicendo che non costa poi tutto sto granché, perché costa 22,90 euro. Sinceramente io non ho capito questo discorso del prezzo, visto che loro comunque sono andati lì per cambiarlo e teoricamente doveva essere a costo zero. Cioè, se tu cambi una cosa, dai quello che si è rotto e ti danno quello che è nuovo, insomma. Quindi il costo non ci doveva essere, però, insomma, ci informano che questo joystick costa, questo ricarica batterie dello joystick costa 22,90 euro. Se mai, insomma, ve lo siete chiesti, questo è. Cambio in quadratura e lui è sul balcone e ci dice che il giorno dopo comincia a fare le previsioni del tempo. Perché? Perché quando, insomma, c'è tanto, manca ancora tanto tempo ai canonici dieci minuti della monetizzazione di un video, che si fa? Si parla del tempo e dice, insomma, che è stato un poveriggio piovoso, che però ha smesso di piovere, anche se il cielo è ancora coperto. Ci dice anche che lui ha visto il meteo, però quello sul cellulare, quello dal cellulare, perché evidentemente quello dal cellulare, insomma, azzecca di più le previsioni che quelli dal pc o quelli dalla televisione, vai a sapere, insomma. Comunque, dice che dovrebbe piovere tutta la sett... Poi si corregge e dice, non proprio tutta la settimana, però giorni piovosi, giorni normali. Quindi, cioè, sapete che volete fare? Affacciatevi alla finestra che fate prima, vedete se piove o se non piove, insomma. Comunque, dice che siccome la moglie ha ancora le sue cosine e ha anche l'ansia, dopo le aiuterà a preparare la cena. Evidentemente, la marcia in più che ci aveva detto, che aveva Chiara, quando, insomma, le tornavano le sue cosine, si è già esaurita. E io, mentre Davide parla, non faccio altro che guardargli un occhio in particolare, perché sul ciglio ha qualcosa di bianco. Io lo so che voi mi dite sempre che io vado a guardare questi particolari, ma se questi particolari ci sono, il mio occhio ci va. Quindi, perdonatemi, ma c'ha sta cosetta sul ciglio, sarà una palletta bianca. Io non so come fa a non dargli fastidio, sinceramente. Comunque, ancora cerca di colmare il vuoto che si percepisce, insomma, lui non ha argomenti, però questo vlog deve comunque continuare fino ai dieci minuti. Dice che per il resto va tutto bene, che spera di fare qualcosa per Pasquetta, dato che non fanno mai niente, che però a Pasquetta, volendo, possono uscire. E a un certo punto chiude dicendo, ci rivediamo vlog facendo. E io sono contenta, perché, sinceramente, ero in ansia per lui. Sapete quando, insomma, vedete qualche persona in seria difficoltà, come era lui, insomma, che non sapeva come colmare questo cacchio di vuoto? E vedete lì che è in difficoltà, dice, guarda, spostati, perché non ci penso io, cioè, non ti preoccupare, provo io a risolvere la situazione. Ecco, a me mi stava venendo quella cosa lì, cioè, vederlo che si arrabbattava per trovare un qualcosa da dire, sinceramente, a un certo punto mi ha fatto anche pena. Ecco, comunque, cambio in quadratura a questo punto, vediamo Chiara, seduta in macchina, capelli al vento, felpa di Topolino. Ci dice che anche i pantaloni sono uguali, cioè, lì, sulla maglia, c'erano le stampe di Topolino, quindi, immagino che il sorcio stava anche sui pantaloni. Comunque, dice che il marito è sceso per ritirarle i pacchi della Ferragni, che deve fare degli acquisti, l'acqua, insomma, il pane e qualche altra cosina. Anche lei ci fa lo spoiler del meteo, cioè, dice che c'è il sole, però c'è anche il vento. E, di nuovo, cambia l'inquadratura e si vede Davide, che dice che il terzo giorno di vlog, cioè, raga, tre giorni di vlog, ancora non sono arrivati i dieci minuti, comunque. Dice che stanno all'Esselunga, che loro sono al parcheggio sotterraneo, che comunque lì c'è tanto vento, che hanno preso l'uovo di Pasqua per il marito, perché avevano due uova di Pasqua, di quella marca che hanno preso, Grandi Firme, mi sembra che fosse, che però erano tutte e due per donne, e quindi hanno trovato questo uovo anche per Davide. Effettivamente noi tutti ci stavamo preoccupando, cioè, io mi stavo chiedendo, ma l'avranno comprato l'uovo per Davide? Ci sarà? Non ci sarà? Ecco, c'è. Comunque, ci fanno vedere anche la spesa, ci sono varie cose pucciose, cioccolatose e porcellose, ci fa vedere che ha trovato l'Eppy Ippo ad un prezzo accessibile. Io, se fossi lei, ne comprerei più di una scatola, visto che comunque in una live Davide se ne è mangiati tre come se niente fosse, quindi, insomma, visto che lui mangia abbastanza di queste cosine, compragliene un po' di più, perché, come si suol dire, meglio abbondare che deficere. Comunque, ci tengono a precisare che nella spesa c'è anche tanta verdura, che ci sono anche cose sane, e cominciano lì a ravanare nella spesa per farci vedere queste cose sane, queste cose, insomma, che sono verdura, queste robe che non sono tutte porcellosità, e niente, ci fanno vedere anche quando hanno speso, e hanno speso 122,29 euro di spesa. Avevano già comprato l'acqua, ce la fanno vedere che è dietro al portabagagli, comunque questo è. Ancora, a cambio in quadratura, ritroviamo Davide a casa, che ci spiega perché ha fatto la cavolata, cos'è questa cavolata che ha fatto, e dice che praticamente, mentre erano sul canale, quello di coppia, lui, tentando di mettere la sociola, praticamente, come moderatrice, ha fatto qualche errore, avrà dato la moderazione, questa cosa, un fechio, adesso non ho capito bene cosa è successo, fatto sta che il moderatore fantasma è andato anche su quel canale. Quindi hanno dovuto aprirne un altro, a nome suo, di Davide, e dice che quando arriveranno a mille utenti, quindi alla monetizzazione, per festeggiare, faranno 5 ore di live. Io direi, cioè, alla gente bisogna dare un incentivo e non un deterrente, caro Davide, perché se dici faccio 5 ore di live, la gente lì rimane anche un po' della serie, ma che mi stai a minacciare, e insomma, cerca anche tu, insomma, di regolarti. Comunque, andiamo a quella che è invece il video di Chiara. Allora, in questo video ci fa vedere tutti, ma proprio tutti, tutti, tutti i prodotti che lei ha acquistato per quanto riguarda i trucchi della Chiara Ferragni. Ovviamente stiamo parlando della nuova linea che è uscita, insomma, da poco. Allora, apre queste scatole, intanto ci fa vedere che ci sono dei campioncini dentro, anche i campioncini di profumo maschile. ci dice che le sono arrivate anche due sconti dalla società dove ha acquistato, appunto, questi trucchi, e niente. Comincia a farceli vedere, a spacchettarli, a farceli vedere. Inutile dire che per lei questi trucchi sono belli, bellissimi, stupendi, wow, e quant'altro. E per farli vedere, insomma, se li mette anche, diciamo, un po' sulla mano, li fa vedere, appunto, stemperandoli sulla mano, e secondo lei il colore è pieno, è fantastico, uno più bello dell'altro, praticamente. E niente, questi trucchi consistono in due palette di ombretti, poi ci sono degli ombretti liquidi, luci da labbra, poi ci sono dei rossetti, un blush e delle matite, non so se l'ho detto, insomma. Comunque, tutto ciò per un prezzo di 368 euro. Quindi, almeno questo è quello che mi dice il sito da dove Chiara ha acquistato questi prodotti. Quindi, sono un totale di 15 prodotti ferragni. Io adesso non voglio dire nulla, non voglio dire che lei comunque non si trucca, cioè diciamo sempre le stesse cose, quindi per una volta non diciamolo. Però, a che pro spendere 368 euro di prodotti che tu non userai mai? Cioè, tu questi soldi, questi prodotti, scusatemi, li puoi aver acquistati con Scalapei, Arrate, come ti pare? Però sono comunque soldi buttati, perché tu comunque queste cose non le usi. Cioè, quindi, a che pro? Giusto per avere cose della Ferragni e poter dire io ho comprato tutti i trucchi della Ferragni? Cioè, sinceramente io non lo capisco, ecco. Se fosse una di quelle youtuber che fa dei video in cui si trucca, ci sono persone, insomma, sapete perfettamente, che fanno i video tutorial dove si truccano, dove fanno vedere che magari un brand è migliore di un altro per quanto riguarda, ad esempio, un illuminante, una palette, una matita o qualsiasi altre cose, io capirei il fatto di dover comprare più trucchi per far vedere, appunto, la differenza e aiutare, diciamo, chi è dall'altra parte a fare il miglior acquisto. Ma tu che acquisti e metti da parte, acquisti e metti da parte, sinceramente non si capisce a che pro. E soprattutto non si capisce neanche dove la metti tutta questa roba, perché può essere anche così poca roba, però poco col poco poi si accumulano e queste cose non si sa, insomma, dove vanno a finire. Che dire, esci le palette dalle guance? Ovviamente, scherzo, scusatemi. Mi è venuta così una cosa estemporanea. Comunque, ragazzi, questo era tutto. Io vi ringrazio per avermi ascoltata. Vi mando un bacio. Se volete, iscrivetevi al mio canale. Se volete, lasciatemi un like. Se volete, lasciatemi un commento. Ciao a tutti. Ciao a tutti.